Dylan Dog Color Fest numero 42, Graucio IV. Wabababababab e bentornati su una mamma mazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella fruttuosa o anche verdurosa rubrica Dylan Dog. Oggi parliamo del Color Fest che se mi conoscete sapete che tendenzialmente è la rubrica di Dylan Dog che mi piace di più. Come sempre l'estate è il momento per sfoderare le storie su Graucio, onestamente non pensavo ci fosse anche un Graucio IV, pensavo ci fossero solo tre Graucio ma benvengano, benvengano e ne parlerò oggi con voi. Come sempre le storie su Graucio non sono inedite, sono già edite, anzi scrivetemi qua sotto voi dove le avete già lette perché non so se anche queste sono nel Grauciomicon onestamente. E le storie sono sempre tre, sono tre storie brevi. Prima di cominciare però se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che sono fan di Graucio e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, di queste storie. Qual è la vostra storia preferita? Qual è la vostra storia più odiata? E perché? Anche se a mani basse giacce nell'aria qualcosa ma poi ne parleremo insieme. Come già detto dal, credo, dal curatore Recchioni sotto le mentite spoglie di Graucio nel suo editoriale, la prima storia e la copertina sono tutte ad opera di Zero Calcare che penso non abbia bisogno di presentazioni. Se ancora ne avesse mai avute bisogno prima della serie tv strappare lungo i bordi, adesso penso che anche la lasciura rosa del terzo piano dovrebbe più o meno capire chi è Zero Calcare. Quindi non sto certo a dirvi chi è, vi posso dire che il suo successo trascende il media fumetto a un punto che nemmeno Dylan Dogg negli anni 90, negli anni d'oro, era riuscito a scalfire. O forse siamo lì a pari merito se consideriamo l'andamento della comunicazione, della divulgazione, della tecnologia. Però ecco, è un fenomeno nazionale fumettistico davvero importante. Perché? Perché come magari Dylan Dogg negli anni 90 riesce a trascendere anche il fumetto con il messaggio che vuole dare nelle sue storie che spesso hanno una critica sociale. Devo dire che questo numero, nel suo piccolo, non fa eccezione. Zero Calcare è riuscito a trovare una piccola critica sociale che è perfettamente in linea con il pensiero anche di Laniato, quindi comunque sui vari mostri che esistono nel mondo reale, nella società reale, e l'ha, diciamo, metaforizzato in questo strano mostro che strappa le nostre pelli. Devo dire che l'ho apprezzato tantissimo. È la storia delle tre che ho apprezzato di più per questi due motivi. Quindi perché c'è una critica di fondo e perché è perfettamente in linea con una storia horror di Dylan Dogg che ha un fine, diciamo, più ampio. Adoro tantissimo che i due protagonisti parlino in romanesco e graucio, parli un italiano che dovrebbe essere l'inglese, e cerchi un attimino di avvicinarsi al loro linguaggio. Diciamo che la barriera linguistica, perché sono chiaramente a Londra, diciamo, in trasferta per cercare questo indagatore dell'incubo, e la barriera linguistica è presente ma è molto sottile e mi è piaciuto molto. Poi ovviamente non sto neanche a parlarvi della griglia, che è tipica di Zero Calcare, quindi tutta assolutamente non con le linee rette, è tutta molto fatta a mano. Può essere considerata una linea classica, con però anche delle semi splash page, eccetera. Però quello che la rende moderna è proprio il fatto che non c'è una schematizzazione precisa, è questo che la rende molto moderna. Dal punto di vista puramente della storia, devo dire che questo mostro che spella le sue vittime è una cosa che avevo già visto, ma non per questo me ne sto lamentando. Anzi, io l'avevo già vista nella sesta stagione... No, scusate, nell'inizio della settima stagione di Buffy l'ammazza vampiri, di cui, sapete, sono un grande ammiratore, quando c'è stato il ritorno di Willow, c'è stato il ritorno di Willow e c'è stato un mostro che spellava le sue vittime. È evidente un po' anche il richiamo a questo tipo di mostro, anche per come è stato rappresentato, però devo dire che Zero Calcare porta questo mostro a un livello superiore, gli dà una morale molto ben più ampia di quella che c'era in Buffy l'ammazza vampiri. Questo mostro, metaforicamente, nel togliere la pelle delle sue vittime, toglie un po' la corazza, la maschera che gli umani, gli esseri umani, si creano per essere degli animali sociali, per vivere nella società. Abbiamo visto che ha tolto due tipi di maschere, la maschera dell'aggressività, il classico ragazzetto che compensa le sue insicurezze con l'aggressività e non vuole farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Mi viene in mente un po' il Bagby di Trainspotting, per farvi un esempio. Oppure una maschera opposta, per farvi capire quanto non sia sano nemmeno essere troppo gentili. L'altra maschera è quella della disponibilità. Una persona carinissima, una persona che offre da bere a tutti, una persona che è sempre disponibile, sì, ma perché lo fa? Perché dentro di sé sente che è l'unico modo per farsi amare, quando in realtà magari viene amato lo stesso dai suoi coetani perché è... semplicemente perché è e non perché è disponibile, non perché si prostra ai piedi dei propri amici. Però ecco, questa è la sensazione. Questo mostro strappa queste maschere sociali. Mi è piaciuto un sacco come nel finale Graucio lo affronti con la sua personalità, ecco, e non riesce, questo mostro non riesce a scalfire la pelle di Graucio. E le due possibilità che il mostro pensa sono o la corazza di questo tizio è talmente grossa perché sotto c'è l'inenarrabile, fanno vedere una sorta di inferno all'interno di Graucio, oppure è talmente cinico, talmente insofferente, indifferente a tutto quello che c'è nel mondo, che questa è la sua reale persona, non ha niente sotto, non ha altri strati, ed entrambe sono davvero situazioni preoccupanti. In queste situazioni, in entrambe le situazioni, di nuovo, questo Graucio del Colorfest mi ha ricordato il possibile Graucio cattivo. E quando succede, io alzo sempre le antenne, dico, oddio, sta succedendo, sta succedendo di nuovo, fanno vedere che sotto a Graucio c'è qualcosa di devastante. Però no, è sempre un accenno, una citazione, un omaggio, o comunque anche solo il fatto che una personalità così comica, ma allo stesso tempo fredda, può dare al lettore. Cioè il carisma di un personaggio così strano è in un certo senso anche una maschera di mistero, o meglio, non è una maschera perché lui è davvero così. Però ecco, c'è questa sorta di mistero sotto questa sua personalità, così sempre piena di freddure, che può davvero far quasi temere questa persona. Ed è stato davvero bello vedere Graucio in queste vesti. La seconda storia ovviamente è quella più bistrattata dai lettori, perché chiaramente è una storia fatta con uno stile abbozzato, uno stile di disegno che hanno adottato in tantissimi, prima di Michael, scusate, Michael e Mirko. Prima di Michael e Mirko c'era Sio, a livello di animazione c'è stato il Cartoni Morti dall'inizio, che poi invece con i mezzi e il successo si è evoluto in disegni migliori, mentre ce ne sono altri che sono rimasti con questo stile, perché è quello che li caratterizza. Ora, io credo che non sia tanto la colpa di Michael e Mirko che disegnano in questo modo, perché è il loro stile, perché il loro stile non è nella qualità del disegno, non è magari nemmeno nella profondità della storia, ma in queste storie molto semplici, che raccontano qualcosina tra le righe, come il fatto che, diciamo, che ci hanno mostrato un pochino, tra virgolette, l'infanzia di Graucio e il rapporto con suo padre. Devo dire che, appunto, però, la colpa io non la vedo tanto nel aver messo, cioè o meglio, nel fatto che c'è una storia disegnata in modo così semplice per tutte queste pagine, ma il fatto che sia stata, appunto, messa a livello editoriale in queste pagine, cioè abbia occupato tutta la parte centrale della storia, perché questa storia poteva tranquillamente stare in una pagina o in due pagine e nessuno avrebbe rotto le scatole, o quantomeno non avrebbe rotto le scatole così tanto. Ma perché allora è stata messa... Ma perché gli hanno dato lo stesso spazio delle altre due storie? Semplicemente perché è una storia di Dylan Dogg. Di conseguenza sarebbe stato riduttivo per i due autori, o per l'autore singolo tutto attaccato, Michael e Mirko, avere la loro storia come un'ipotetica quarta storia bonus di una sola pagina. Sarebbe stato riduttivo. Ora, lo so che certi stili di disegno hanno un senso a livello digitale, dove leggerli non costa nulla, e invece dove si compra la carta e si spendono soldi per tante pagine e si trova così poco al suo interno, posso capire che molti storcano il naso. Lo posso davvero, davvero capire. Io credo che questo stile vada molto meglio sul digitale. Però ci sta anche ogni tanto mostrare che esistono anche questi tipi di fumetti. Poi, per carità, è vero, c'è appunto chi ci ha speso 5,90 euro e gli scoccia aver speso per questa poca qualità, diciamo, inteso proprio come poco riempimento della pagina. Ragazzi, che vi posso dire? Non vi posso dire che avete torto, avete anche ragione, anche voi. se ci fate caso, queste cose succedono poco. Cioè, nel senso, questo stile così tanto sperimentale, così tanto abbozzato, non lo mettono ogni due mesi, lo mettono magari una volta all'anno. Quindi diciamo che per una volta all'anno gliela si può anche abbonare per farci mostrare qualcosa di diverso. e lo sapete che io sono molto incazzoso su uno stile non completo. Basta vedere il mio ultimo numero, la mia recensione sul numero 430, dove lì mi ero arrabbiato molto. Qui so che questo è lo stile che di più non c'è e lo prendo per quello che è. È ovvio che mi sarebbe piaciuto anche a me vedere un'altra storia con questo livello di disegni, però la si accetta e si va avanti per il bene che si vuole a tutte le altre storie. È comunque uno stile carino che spero di fruire ancora appunto a livello digitale in modo gratuito, perché comunque è divertente, è un passatempo. L'ultima storia è quella dove Graucio invece ha un ruolo molto diverso dal proprio, una storia molto epica, se vogliamo, dove Graucio fa un po' la parte di Conan il Barbaro, viene chiamato Grouco ed è accompagnato da una sacerdotessa seminuda che ricorda molto Red Sonia e ci mostrano delle varie battaglie in cui lui sta cercando di riportare questa sacerdotessa a suo padre perché era stata rapita e in un certo senso è sua prigioniera ma svoccia l'amore, quindi ci sono molte scene dove questo super Graucio Chad fa l'amore con questa gnocchissima rossa, mentre tra una scena e l'altra combatte e sgozza delle bestie enormi finché non arrivano a una cittadella, una cittadella quasi leggendaria, un po' come Atlantide o Eldorado e incontrano un nemico che è palesemente John Ghost, tant'è che Graucio gli dice io ti ho già ucciso, ma sì, infatti io sono il fantasma, Ghost in inglese è fantasma, quindi questo è palesemente John Ghost che affronta Graucio e non Dilan Dog mentre combattono, sprofondano nel tempio del protettore di chi è debole delle debolezze che è chiaramente Dilan Dog e come un sansone del fumetto questo personaggio che adesso mi sfugge il nome che è John Ghost taglia i capelli a Graucio e il Graucio che noi conosciamo inizia a uscire da questo Grouco, il distruttore, quindi prima si formano i suoi capelli che sono frutto del taglio della spada di John Ghost e poi con un'altra lama incantata gli toglie tutta la potenza fino a farlo diventare il nostro Graucio Mingherlino, un po' flaccidino, che è la classica spalla comica di Dilan che tutti conosciamo. Quando Graucio non ha più questo potere, questa forza, questi muscoli, è quasi felice. C'è quasi anche qui una metafora su come non essere forte fisicamente e non dover a tutti i costi dimostrare la propria forza fisica gli dia il permesso di essere se stesso ed esprimere la sua forza interiore che in questo caso è l'umorismo dissacrante che riesce a combattere qualunque cosa. Con le sue freddure crea appunto degli scudi di ghiaccio, delle armi di ghiaccio. C'è anche questa fantastica citazione a Sailor Moon dove si trasforma in una sorta di principessa sailor di ghiaccio che ricorda anche molto il crystal dei cavalieri dello zodiaco e combatte con le sue freddure il nostro fantasma fino a un momento finale dove ricorda anche Elsa di Frozen e costruisce una scala di ghiaccio in cui gli va addosso per poi, diciamo, esagerare ed essere salvato da questa sacerdotessa Red Sonja. Lo stile di questo disegno è stupendo. Io leggerei un fumetto con questo stile di disegno per anni e anni e anni. È fantastico. Leggerei Groucho o leggerei anche Dylan. Poi so che ad alcuni magari un Dylan Dog con questo stile potrebbe risultare troppo cartunesco ma io lo adoro perché le espressioni le espressioni del viso sono qualcosa di davvero spettacolare trasmettono tantissimo poi possono essere un po' troppo cartunesche per alcuni ma va benissimo. Con Groucho sicuramente vanno benissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero e vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Potrebbe esserci un ritardo sul retro Dylan perché ho preso anche l'old boy questo bimestre e voglio leggere anche l'old boy e commentarlo quindi magari il retro Dylan potrebbe arrivare a fine mese ma c'è stato un po' ferragosto quindi slittano un po' di cose. Ecco tutto qui. Grazie ancora e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.